Per far dell'altro ci sono più modi, potrei darmi alle soldi e fottermi i soldi nei conti come un panchera di odi C'è chi ha bollato i conservatori per un decidore, gli spianisti sono più pagati di pieno e modi Vado avanti e mi so più scaramente, sva per impazzire come del purgo 7 Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette perché sono un perro Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette perché sono un perro